Sabato prossimo sarà celebrata la quarta giornata mondiale di preghiera per il creato voluta da Papa Francesco e sarà celebrata come negli anni precedenti insieme con i fratelli ortodossi del patriarcato di Costantinopoli e altre cresce ortodossi o chiese cristiane riformate. È una data importante e significativa che già ha avuto in passato grande successo. Ne ha parlato oggi Papa Francesco nel corso dell'audienza generale al termine salutando i fedeli e i pellegrini italiani. Gli ha segnalato subito una cosa importantissima, che il tema principale di quella riflessione, di quella preghiera sarà l'acqua. L'acqua che spesso noi sottovalutiamo perché è tanto normale trovarla facilmente dentro casa è forse l'elemento fondamentale del futuro dell'umanità. L'acqua è vita, l'acqua è salute, l'acqua è felicità. La dobbiamo pagare, non è gratis. E la dobbiamo pagare per poterla tenere sempre sicura, igienica e garantita. È un elemento fondamentale per il futuro. L'acqua è un diritto, ma è un bene comune.